Bella a tutti ragazzi, siamo i TheMatch! Bella a tutti ragazzi, siamo i TheMatch! Siamo qui oggi con un video particolare. Vi volevamo far vedere la nostra serata di ieri, cioè sabato 22 settembre. Siamo andati al Circo Orfei, al Rolando Orfei Audio Center. È stata molto particolare, vi lasciamo qualche spezzone di video, ovvio non tutto perché sennò dura troppo, facciamo qualche pezzettino e quindi... che abbiamo fatto e speriamo che vi piaccia, buona visione! Bella, bella! 3 pigri contro 3 pigri! 3 pigri contro 3 pigri! 6 pigri contro 4 pigri contro 3 pigri contro 5 pigri contro 1 très singolo. Se Lee Simeone americano che dice può essere usso solo Grazie! Grazie. 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 Presentazione delle belle a pubblico. Grazie. Grazie. in passarella grazie a tutti Che succede? Che succede, Mr.Raphael? No, è incredibile. Come lo facciamo? Io ho un'idea, ho un'idea, ho un'idea. Applausi Ragazzi, vi sia piaciuto? Aspetta, aspetta, con calma, con molta calma. Speriamo che questo video vi sia piaciuto molto, tanto, tantissimo, moltissimo. Condividete, iscrivetevi, lasciate un like, più like. Possibile. Grazie, possibile. Più like possibile, mai altro. Seguiteci sui social Instagram, Facebook, Instagram, Facebook e l'ultimo Instagram, Snapchat e Facebook. Luca Vava, 97, Luca Vava, Luci, Musmeci, trattino basso, 1195, Luciano, Musmeci, TheMats, Bro, TheMats, basta. Di tale storia. TheMats, Bro, TheMats, scusa. Su Facebook TheMats, su Instagram TheMats, bro. Su Instagram TheMats, Bro, comunque. Su Facebook TheMats. Ma io, se te che devi, se te l'ha dato i social, comunque vi volevamo fare una bella. breve introduzione al, a per quanto riguarda i video e come usciranno e quanti ne usciranno, intanto li fa il cretino, nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Allora, ne stiamo facendo fare uscire una settimana, cioè se è stata nascorsa, ne stiamo facendo far uscire una settimana. Settimana scorsa, quella che è venuta, che è passata, ne ho fatto far uscire un video a settimana. La settimana qua cerchiamo di fare ancora un video a settimana, però se... Non un video a settimana, un video al giorno. Sì, un video al giorno per tutta settimana. Per tutta settimana. Se invece, andando avanti, non riusciamo più perché magari lavora lui, magari trovo un lavoro anch'io e abbiamo meno tempo, ne faremo uscire magari tre a settimana, magari lunedì, mercoledì, venerdì, oppure due, ci vedremo. Comunque vi terremo aggiornati su Instagram. Sociale, Instagram e anche Facebook. Anche Snapchat. Snapchat, non ce l'abbiamo. Anche su WhatsApp, si scrivete intanto lui, 3, 3, 1, 9. No, 3, 3, 40, 50, 41, 9. E comunque, seguiteci anche su lui. Seguiteci su lui, anche io vi lascio qui il suo numero in descrizione. Chiamateli in tanti, bombardatelo. Bombardatelo. E bevete... Acqua Ginevra. Ecco. Fa bene l'addio così. Fa bene, ragazzi. Bella a tutti. Ci vediamo al prossimo video. Ci vediamo al prossimo video. Bella. Ciao, ciao. Lasciate un like, iscrivetevi. Bella. Bella, ciao.